ciao ragazzi eccoci qua con una battaglia veramente che ha cambiato la storia la battaglia di Hastings combattuta dagli inglesi contro i normanni l'ultima conquista dell'inghilterra perché l'inghilterra su grandi linee possiamo dire che è stata conquistata da chi dai romani che l'hanno tenuta per oltre tre secoli poi dagli anglosassoni quindi angli sassoni e iuti che hanno creato tutta una serie di regni poi c'è stato alfredo il grande ci sono stati secoli di nominazione anglosassone circa cinque secoli oltre cinque secoli e poi l'ultima conquista dell'isola è riuscita a farla un re che diventerà re appunto ma all'epoca della conquista era un duca il duca guielmo di normandia quindi i normanni saranno gli ultimi che riusciranno a conquistare l'inghilterra vediamo come i normanni sono un popolo del nord del nord europa discendenti dei vichinghi originari delle odierne svezia danimarca e norvegia essi però si stabilirono dall 876 in buona parte nella francia del nord dove il loro capostipite rollone fondò nel 911 il ducato di normandia e iniziarono a parlare francese questi uomini venuti dal nord quindi erano i discendenti dei vichinghi che si stabilirono appunto in normandia fondando un ducato alcuni normanni partiti dalla normandia si mossero anche verso la conquista del sud italia come ad esempio roberto il guiscardo altri nello specifico il duca guielmo appunto detto il bastardo perché non era un figlio legittimo del precedente duca di normandia ambivano alla conquista del regno d'inghilterra per una serie di motivi per lo più dinastici in quanto il re sassone eduardo il confessore morì senza figli ed era parente del duca guielmo e aveva a lui promesso il trono d'inghilterra dopo la morte di eduardo il confessore ignorando tale promessa il sassone harold godwinson si impossessò della corona e divenne il nuovo re d'inghilterra suscitando le proteste di guielmo il duca di normandia che fra le altre cose lo aveva anche aiutato durante un periodo di prigionia di haroldo in francia lo aveva aiutato lo aveva ospitato nella sua corte e gli aveva imposto di giurare fedeltà ai normanni e a lui quindi haroldo però una volta attraversata la manica e tornato in inghilterra si dimentica di questo giuramento e guielmo non è felice ovviamente di questo quindi questa situazione di stabilità non generò soltanto lo scontento del duca guielmo ma anche del re norvegese harald ardrada che voleva approfittare di questa situazione per far valere le sue pretese sulla corona d'inghilterra e per raggiungere i suoi obiettivi si servì dell'aiuto del fratello di harold quindi di haroldo che tradì il fratello tostig del vessex che si alleò con harold ardrada così harold ardrada raggiunge tostig del vessex stabilendo un'alleanza un fronte comune contro haroldo e la coalizione otterrà alcuni successi iniziali tra i quali il più importante a fulford e dopo questo successo gli anglosassoni di haroldo si preparano a marciare a tappe forzate verso york sarà una marcia velocissima nel frattempo a sud i normanni aspettano il momento propizio per attraversare la manica si preparano preparano le loro navi caricando cavalli ed armamenti la partenza in direzione dell'inghilterra si avvicina e guielmo non vuole mancare al suo appuntamento con la storia in inghilterra l'esercito inglese di haroldo marcia velocemente come abbiamo detto in direzione nord per poter cogliere di sorpresa le truppe di harald ardrada e del fratello tostig e così il 25 settembre del 1066 haroldo ottiene una schiacciante vittoria decisiva stanford bridge haroldo distrugge l'esercito nemico e solo un piccolo gruppo di vichinghi riuscì a tornare in norvegia dopo questa battaglia è un po il canto del cigno dei vichinghi questa sconfitta che da questo momento in poi avranno un ruolo più ridimensionato della storia mentre a sud guielmo sbarca in inghilterra sbarca scende dalla nave cade a terra i normanni avvertono come un cattivo presagio questa cosa che è successa ma guielmo con una risposta pronta cercherà di tranquillizzare i suoi uomini e quindi i normanni una volta sbarcati in inghilterra montano il loro accampamento a pevensey vicino alle rovine di un forte romano guielmo il normanno osserva i suoi soldati allenarsi in vista della battaglia contro gli inglesi il difficile confronto contro il potente esercito sassone si avvicina ma l'esercito di guielmo è forte è potente e non teme nessuno così i normanni e i sassoni si affronteranno in una battaglia decisiva vicino ad estings l'esito è incerto i sassoni sono temibili ma sono stanchi a causa della battaglia combattuta stanford bridge e a causa della marcia tappe forzate prima verso nord poi di nuovo verso sud da una parte all'altra appunto dell'inghilterra ma l'astuto aroldo non si farà trovare impreparato e i normanni si preparano ad affrontare una difficilissima prova ad estings e vediamo come aroldo schiera i suoi uomini e come li schiera invece il duca di normandia aroldo posizionò il suo esercito in un luogo fortemente difensivo sopra una collina la collina di semlak semlak il l'esercito anglosassone era coperto ai fianchi dalla vegetazione i normanni invece si trovarono sul pendio della collina in una posizione di svantaggio coperti ai fianchi dagli alleati francesi sul fianco destro e dai bretoni sul fianco sinistro la prima linea normanna invece era formata dalla fanteria leggera e dagli arcieri del duca guglielmo che erano addestrati efficacemente vediamo le forze in campo allora arcieri fanteria leggera per quanto riguarda i normanni di guglielmo cavalleria pesante fanteria pesante gli anglosassoni invece potevano contare su piccoli reparti di fanteria leggera i fird che erano liberi cittadini che combattevano per l'esercito anglosassone e poi gli uscarli i auscar la fanteria pesante di aroldo dotata di asce possenti in grado di spaccare in due il nemico erano potentissimi erano la fanteria pesante di aroldo il corpo scelto quello che avrebbe dovuto fare la differenza particolarità dell'esercito di aroldo è la mancanza di cavalleria e i normanni potevano contare sui 7 12 mila uomini mentre gli anglosassoni su un range di uomini compreso fra i 5 mila e i 13 mila soldati e vediamo proprio la battaglia possiamo vedere la posizione degli anglosassoni come abbiamo detto fortemente difensiva sulla collina meglio conosciuta come senlac hill e certamente i normanni partirono da una posizione di svantaggio e infatti guglielmo riconoscerà il fatto che aroldo aveva schierato in maniera efficace le sue truppe come meglio non avrebbe potuto ma la battaglia inizia con gli arciari normanni che tirano una grande quantità di frecce ma i muri di scudi impenetrabili degli anglosassoni assorbono gli attacchi senza problemi questa mossa di guglielmo si rivela infruttuosa guglielmo non ci sta e allora fa avanzare la fanteria pesante che dopo un inizio incoraggiante dovette ripiegare data la potente azione di oscarli che con le loro asce provocarono danni devastanti ai soldati normanni e guglielmo inizia a percepire un certo momento di difficoltà e allora eccoci qua con il jolly la cavalleria pesante quindi guglielmo fa avanzare la cavalleria che si infrange su un muro talmente fitto di guerrieri da respingere la cavalleria con relativa facilità i normanni cominciano a demoralizzarsi perché lo schieramento anglosassone è perfetto è infrangibile nel vivo della battaglia si iniziò addirittura a diffondere la notizia della morte del duca di normandia il fianco sinistro a seguito di questa notizia fugge il duca si gettò subito in direzione del fianco sinistro si tolse l'elmo si fece vedere face vedere il suo volto e sono ancora vivo sono qui guglielmo si toglie appunto l'elmo mentre dei reparti nel frattempo del compatto schieramento anglosassone si staccano e commettono un errore a inseguire il fianco sinistro dei normanni è un momento cruciale della battaglia il peggior momento dei normanni si sta trasformando in un punto di svolta e a guglielmo questo sembra non dover sfuggire vedendo cosa stava succedendo guglielmo ebbe l'intuizione di richiamare il reparto di cavalleria che iniziò a mettere in atto delle finte ritirate il fianco sinistro combatteva rinvigorito vedendo che il duca non era morto che il duca era vivo e quel reparto di cavalleria attaccò alle spalle gli anglosassoni esposti che erroneamente erano scesi giù dalla collina e la parte anglosassone esposta venne accerchiata e distrutta e guglielmo combatte insieme ai suoi uomini per incitarli e caricarli ancora di più vittoria o morte quindi l'esercito di aroldo era schierato perfettamente ma l'esercito di aroldo non era tanto disciplinato tanto è vero che cadde in questa sorta di tranello più o meno inconsapevole quindi la parte esposta degli anglosassoni viene accerchiata e annientata e a seguito di questa ritirata e di queste finte ritirate del fianco sinistro normanno guglielmo invita anche il centro e il fianco destro a fare altrettanto cariche e finte ritirate e così facendo i reparti anglosassoni avanzati ed esposti cadono nella trappola di guglielmo che accerchi agli anglosassoni esposti e li annienta il blocco dell'esercito anglosassone è sempre più assottigliato e le sorti della battaglia stanno prendendo una direzione precisa e che cosa succede a un certo punto fu a questo punto che guglielmo ordina gli arcieri tra una carica e l'altra della cavalleria di riprendere a tirare con insistenza e una freccia colpì l'occhio di re aroldo che poco dopo morì in battaglia e questo episodio dette un ulteriore punto di vantaggio ai normanni un ulteriore punto fondamentale di vantaggio ai normanni e vediamo che quindi aroldo muore e questo influisce molto sul morale delle truppe anglosassoni e le forze anglosassoni avevano ormai perso la loro compattezza e le cariche dei normanni divennero sempre più devastanti il fianco sinistro anglosassone e il centro non esistevano quasi più praticamente diverso è il discorso legato al fianco destro in quanto la fanteria superstite anglosassone ritirata attese i cavalieri normanni dopo un fosso nascosto dagli sterpaie del quale gli anglosassoni erano a conoscenza la famosa buca delle malfosse che era una buca semi coperta una sorta di trappola naturale e molti cavalieri normanni caddero nel fosso e vennero finiti dalle asce della fanteria anglosassone quindi molti vennero uccisi da questi anglosassoni che erano in ritirata ma guglielmo non ci sta ovviamente l'impavido guglielmo che tanto aveva combattuto a fianco dei suoi uomini non si fece intimorire e andò ad affrontare la fanteria sassone uccidendo diversi nemici che si dettero definitivamente alla fuga la battaglia di hastings poteva dirsi conclusa con la decisiva vittoria normanna dopo la vittoria guglielmo a modo di ammirare lo standardo del re anglosassone araoldo pieno di oro e di pietre preziose e deciderà di donare al papa di roma questo prezioso cimelio papa di roma che aveva appoggiato fortemente guglielmo che desiderava guglielmo come re d'inghilterra dopo la vittoria di hastings guglielmo fece erigere moltissimi castelli e questo fu certamente un episodio fondamentale che rafforzò il potere sull'isola dei normanni e venne incoronato re d'inghilterra a londra e gli instaurò una monarchia feudale sul modello continentale e consolidò il suo potere su quasi tutta l'isola ad eccezione della scozia e del galles inoltre il nuovo re d'inghilterra dispose la redazione del don's day book un documento nel quale dovevano essere censiti tutti i beni degli abitanti del regno conquistato mister johns a quattro galline che fanno tre uova al giorno quindi un libro nel quale c'erano scritte queste cose guglielmo permise così ai bretoni discendenti dei romano britanni di vendicarsi dei sassoni che avevano fatto fuggire dall'isola i loro antenati secoli prima e si erano insediati in bretagna la battaglia di estings è narrata con estremo dettaglio nell'arazzo di bayier che è un tessuto nel quale è rappresentata la battaglia e i suoi preparativi ed è un documento storico veramente prezioso e fondamentale e quindi l'inghilterra da anglo sassone diventa un regno normanno con tutte le conseguenze del caso e infatti guglielmo farà costruire molti castelli come questo di warwick come abbiamo detto per lanciare campagne di conquista nel nord dell'isola o per rafforzare i suoi possedimenti guglielmo o william il conquistatore quindi che da bastardo diventa conquistatore regnerà fino al 1087 oltre al grande impatto sulla storia la conquista normanna ebbe effetti anche sulla lingua inglese da questo momento l'old english che fu una lingua germanica al cento per cento si estinse vennero gettate le basi dell'inglese moderno che subì un'evoluzione continua nel corso dei secoli fino al 500 con shakespeare nella storia moderna nella storia contemporanea e questo inglese moderno col passare dei secoli rimpiazzò il lessico germanico sempre di più per il 65 70 per cento i termini dell'inglese moderno hanno matrice franco latina solo il 23 per cento dei vocaboli rimarranno germanici col passare dei secoli anche se molti di questi appartengono al lessico comune grazie a guglielmo l'inglese iniziò appunto a diventare la più latina tra le lingue germaniche profondamente diversa dall'old english che parlavano i sassoni i normanni continueranno a costruire castelli in inghilterra continuamente come goschester splendido esempio di castello feudale medievale portato a termine nel dodicesimo secolo e regneranno fino al 1154 anno nel quale la dinastia plantageneta francese regnerà per oltre tre secoli e tuttavia visto che il capostipide dei plantageneti sposò una figlia di enrico primo d'inghilterra normanno la discendenza normanna continuò per molto tempo i normanni dopo la battaglia di hastings cambiarono per sempre la storia dell'umanità e la storia dell'inghilterra spero ecco di aver dato un quadro chiaro di questo importantissimo e fondamentale episodio della storia medievale e della storia dell'umanità un caro saluto da flippe prof